Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Mr.Tyke e siamo diciamo un'altra puntata improvvisata però questa volta siamo 4 persone, un'altra puntata di Counter Strike Global Offensive siamo in compagnia di GLaDOS, di Totten98 e di Vito il Mito Vito il Mito perché è veramente un mito ragazzi, mi fa sempre il culo, io non riesco a capire da dove spunta vedrete sicuramente, ah no siamo in competitiva, faremo una classica competitiva quindi questa volta il culo non me lo farà questa volta non me la fai, niente ok, facciamo un po' qualcosa al volo come al solito allora iniziamo la partita, sta cercando una partita, speriamo che non ci calci in culo da qualche altra parte siamo sul nostro server di TeamSpeak, ricordo il link, si il link all'indirizzo, si vabbè quello per entrare, vabbè quella cosa che tu entri dentro il server ts.svarnak.net che metto anche in descrizione e niente, ragazzi questo è cercando se non trovo una partita no, ormai ci hanno visto, siamo col tag svk, basta, non posso entrare da nessuna parte sicuramente mi bannano di nuovo si cerca di non sparare in giro a caso di solito mi bannano perché spari i miei compagni stessi chissà come mai non è che si pari ok forse funziona perché sta dicendo confermere la partita e invece no accetta, voilà ci siamo adesso c'è il troll che non accetta eh si c'è sempre voilà 10 su 10 dust2 dust2 ah si che lì c'è in questa mappa qua, se vedete lì al centro c'è l'iPhone vedi lì sotto, in basso, c'è un iPhone eh un iPhone, vabbè quella cosa delle Apple, quelle cose lì mollicce se ne intendi invece quei cosi rotondi sembrano capezzoli antiterrorismo nooo, volevo partire come terrorista nooo, anche io volevo fare il terrorista sto giro vabbè vabbè, piazziamo le bombe lo stesso, le andiamo a staccare, le piazziamo in altre parti no? ah ecco odio ma io sto quasi entrando ok io ci sono che bello compriamo roba a casa possiamo comprare, si? si si ah ma si ma siamo ancora nella fase di cazzillo riscaldamento si si ma perchè c'è cosi qua che lancia la WP porca Eva chi è che lancia la WP eh ah iupieee iupieee io ovviamente col mio mandarino a canne mozze basta che non ho pare di compagno va bene tutto quello che vuole oh un barbecue hanno fatto un barbecue ma io ho un nemico ah eccoli qua uno fuori dove siete da là? un altro è andato oh cazzo ma l'ha andato cosa stai facendo lassù? oh ma nessuno mi aveva visto è possibile solo crucial crucial cruciverbe cruciverba yeah yeah ahah chi è che ha andato le WP? ma da dove ci sta sparando? ah da là dietro eh vabbè riscaldamento l'ho preso dalla WP tanto mi sa che ci distruggono questi non so perché spero di no la WP sembra una marca di sapone tipo compra la WP e fai il tuo bucato dai cerchiamo di concentrarci veramente allora no armi pesanti non me ne fa prendere eh erando con la pistola erando con la pistola erando con la pistola ah è vero me l'ho scordato di sta fare perchè se tutti con la mano così fa caldo fa freddo ah non ho stato col coltello perchè c'è una canata là al contrario prima in chat ah ah quattro dello stesso team oh my god oh god ho 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 quattro dello stesso team ma questo ce l'ha in Andresa Eagle fammi capire ma io non c'ho la team mi sa che ce la mettono da là no no mi sa che arrivano da qua inna c'è qualcuno perchè mi hanno appena lanciato una granata mi hanno killato in una lunga io vi consiglio di andare a controllarlo si mi sa di sì ma perchè siamo andati tutti quanti in B? oh voilà fuori vieni qua vieni qua faccia di fango di fango no ma ho ucciso perchè stanno andando in A ti trovi in A no road mood è uno di colore e non sono razzista ovviamente eh vabbè lascelo perdere quello sono in A sono in A certo che noi come antiterrorismo siamo come antiterrorismo facciamo schifo noi ma vabbè ma questa era la round della pistola no ma io volevo fare lo terrorista però io non compro niente così almeno dopo posso già comprare le armi potenti vieni tanto no io me lo compro il mio mandarino a cannemozze eh perchè tu te lo puoi comprare perchè io non posso comprare le M4 a 4 kit di disarmo io lo piglierei compra le M2 a2 a metà costarà la metà sicuro va in bio le M2 a2 hai preso quello che costa la metà no ma esiste le M2 a2 no oh ho ricampato una K ma dove mi spara? nooo ma scorre ma scorre ma scorre ma scorre mi ha ammazzato crucial mi ha ammazzato vitto il mito con la nuova con la nuova grandissimo è bella mi piace troppo sta nuova bella faccio che c'è uno che sta arrivando dalla lunga mi metto a giocare anch'io con il nuova mi sa qualcuno disinnessi no 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 ma io non posso abbandonare il mio mandarino a cannemozio no 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 l'ho piantato è droppato è droppato è droppato è droppato è droppato eh lo vedo ma da dove arriva è da tunnel? ragazzi davvero per noi è vero che ci siamo scordati che stai registrando vedete vedete ragazzi com'è com'è una cosa normale registrare avevo un po' paura vitto il mito e e GLaDOS eh? ma io avevo la paura prima volta oggi si vabbè non paura che ti stai cacando sotto paura nel senso di emozione eh cosa no ce la fai tempo 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 guarda qua questo spara granite oh la bomba è droppata aspetta tempo vai a controllare la gomma eh la gomma si la gomma che è bucata non si sa mai ma non ha presa la bomba si è piazzata da sola cosa eh si ma si pensa a Tainan chi è? c'è qualcunina? eh mi sa di si ah non ci sono vitto 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 deve andare eh deve andare a disarmarla eh comunque è lì si è lì 8 no dov'è? è lì per forza dai dai che ce la puoi fare? dai dai che ce la puoi fare? non ce la fa perché ce la ammattano e se son nabbi? nooo faffanculo forza è l'faffanculo è normale il kit ce la faceva però io lo volevo prendere tutti va bene adesso nooo prendo il nova ora andiamo le precauzioni andiamo col fucile arruginito si adesso tra un po' ma perchè state ah ce l'ho scordato eh vai vai andiamo in A no no eh si andiamo in B perchè adesso ci sono o ritornano in A o perchè mai già sanno che andiamo sempre in B no ti vedono chi è quello lì? oddio qua in A non vedo vitto per ora c'è qualcuno in A? ci sei tu in A? si tranquillo al limite ci chiami faccia di fango dove sono? va là fuori è morto te stanno arrivando dalla porta ma sei te ma mi hai sparato ma allora sei una niente ma l'ha ammazzato oh vai nel tunnel nel tunnel nel tunnel perchè stiamo facendo così schifo perchè questo mi dice dalla porta eh perchè vista te eh ma mi hanno ammazzato dalla porta mi sono ho fatto una cazzata mi sono scoperto un secondo vai totten si ma noi siamo una squadra terrorista no antiterrorista eh appunto non siamo buoni a cercare non siamo buoni guarda 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 belino io mi ho sempre giocato terrorista sempre buono si terrorista anche l'altra sera ma tutti grande grande guardalo lì guardalo lì basta ci stanno facendo il culo tipo 16 a 0 questo lo dobbiamo vincere questo round no 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 adesso ero un attimo giudiarmi adesso no no lì l'arma ce l'ho su vedi guarda guarda è su guarda è su chi è che aveva in mona? hm? hm? io ho preso il flash e ho lanciato uno dentro il tu se vedi io mi voglio minare una volta in me ma sono i doni mi 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 sei da sopra un po' che è un poche perché arriva qualcuno occhio perché qualcuno il qualcuno io sto controllando la porta si se è andato fornara sopra io bastardo basta ma chi è che ha flesciato a flesciato lui 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 ha flesciato lui facciamo schifo ragazzi facciamo schifo non facciamo schifo qua un attimo sono loro forti eh ma si ma l'altra sera abbiamo fatto uno sbando assurdo adesso registriamo che facciamo dei sborroni ma questo è bravo chi è oh ah non è una squadra con noi io non l'avevo visto questo ci ha visto con noi ma io con questi nabbi qua dovevo capitare non siamo nabbi sono forti loro allora ho capito ma non ce l'abbiamo no secondo me siamo partiti siamo partiti no secondo me siamo partiti troppo convinti è andato in bb è piazzato dai edri adi adi raughe dai dai tu non lo sai ma noi ti stiamo registrando di italia 1 non lo dice magari l'ha detto ah ma non è oh veramente non è però se ti spi con noi allora sei scemo allora sei scemo allora sei scemo va bene c'è un cazzo ok è già un cazzo perfetto c'è solo il compito mandarino ti compri per soldarmi nel m4 a4 toltene che si smonta la pistola qui qui eh 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 vado in b no sono in a no vado in a vado in a io vado in c quasi quasi ovviamente ah monotope guardi ne aveva scoperta io libero no ah ok una andata la bomba la bomba la bomba la bomba è stata piantata no la bomba è qua è qua è qua è troppata è troppata c'è uno che sta arrivando al centro è troppata in a venite qua venite qua venite qua venite qua è troppata venite qua in a silenzio silenzio che sta succedendo venite qua eh ho ammazzato quella cavola da bomba il mio fucile c'è vittorio ma questo qua si è tipo girato mi ha tirato una fucile venite dalle porte di A ce ne sono due anche in D non capito dal centro si chiama a lunga dal centro arriva a lunga quello che cavolo si chiama ilunga a lunga quello che sia sia dai venite qua lo sta aspettando oh io mi metto a covare mi metto a covare co 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 ci siamo ah ma posso iniziare a giocare che c'è un po' di soldi questa è stata veramente bella no adesso non iniziamo dai tu atteniamo e vengono con te in A oggi perchè in questo me lo sento che attaccano in A no attaccano in B a suo giro perchè vengono sempre in A ho occhio che arriva in B vado io qua non c'è nessuno libero 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 anche dalla porta andiamo occhio aspetta che sto ricercando copia è la bomba la bomba la bomba la bomba qua si ma arrivano ecco io sto da qua io sto tenendo uno la dove sono? oh mi sta arrivando uno mi sa oh sei tu no sei tu sono io sono io venite in A lunga beh che io copro il lunga ecco che ti stava arrivando da dietro figlio di puttana vado stessi qui a coprire B si si sono lì a lunga a lunga che sono scoperto cazzo sono scoperto ma chi è mid? io te lo sto coprendo io a lunga a mid? che cacchio si chiama? su qua dovete venire qua dov'è? è lì lì penso che è nel tunnel nel tunnel quello lì che penso io dietro di te sono davanti a te io sono il B no vai 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 Angelo mi ha ammazzato mi ha ammazzato venite ha già preso la bomba e non so dove va a plantare hai 20 secondi ce la puoi fare ce la puoi fare glados ce la puoi fare siamo tutti su di te credo che non stiamo facendo niente di male su di Zebra no la piazzata no la vuole piazzare ma è che ce la puoi fare grande 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 eccolo sei un grande cazzo ci stiamo scaldando eh ragazzi andiamo anche good job eh un attimo sempre flashbang oh c'è per la musetta good job andiamo oh non cammina ok non cammina no non cammella il peggio è avere la tastiera wireless mentre sei lì che vai c'è qualcuno che sa che noi stiamo registrando e mi sta spammando su flashbang e mi sta spammando su steam libero no ok ammazzato cos'è la cieca lo vedo sto laggando sto in faccia la bomba è droppa è droppata arrivo no dai io ho sparato in faccia totten lo prende da dieta che cosa grandissimi grandissimi vitto questo è il vantaggio di essere su steam speak questo è il vantaggio di essere su un team sta a vedere che figura di merda adesso ragazzi siamo senza censura qua mi dispiace questa puntata proprio si è antesi al massimo è un gioco che forse effetto a 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 soreta a o c'è arrivato a b pro merda mille di ping merda anche a me ma ping no no il server anche a me anche a me anche a me anche a me se me sa laggare no a me va bene è qua c'è pieno c'è pieno in b no c'è pieno in a in a in a si prendiamo posizione in b vittorio mi si è messa a pingare troppo no se me sa laggare se me sa laggare anche a me in a in a stanno andando io lo so se l'avessi davanti invece era dietro oh tu non ti perso no no se me sa laggare anche a me ce ne sono tre ce ne erano due o tre ce ne erano dai dov'è grande vado io vado io vai 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 col kit grande e va falla lilla la grandissimi grandissimi chi è che hai disarmato che non ho visto guarda qui ha avuto l'amico oh da so dai andiamo mi sono piaccato anche la desert eagle il problema è che mi sta salendo il ping no ma mi sa che è server mi sa non è colpa nostra perchè anche a me no adesso no su team speak non ho 200 su team speak non ho 200 dai la sto andando io no dobbiamo rilanciarla più in la sta molotov così possono comunque spararci libero 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 mi sa che qualcuno chi è che mi ha sparato libero appena un'attività di nana nana la faccia nella funzione messaggio preso anche un'attività e quindi davanti te dai che stiamo andando bene non sono molto ma presa dietro mi sa pozzo da dietro son morto ragazzi io non ho amato a pancaminica io sto baggando dai ciò per un po' le regole grande no è morto vita solo tu sei rimasto mi sa prendi una cacca cosa si deve prendere una cacca dai che c'è no non ce l'ha vaffan vabbè siamo 4 a 5 5 a 4 dai ma si 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 quanto devo arrivare a 7 quanto a 16 mi scendesse un po' il ping a me mi serve questa attrezzatura qua per andare in ama scoperta ragazzi mi piacciono andare là davanti oh ho preso il kit di disarmo come se lo avessi come se lo sapessi guarda pinghi ancora stai ancora pingando oh guarda 170 200 va avanti già il fatto che uno abbia pigliato la bvp e abbia spailato da lì no dai mi ha ammazzato subito scorpio ma che cazzo dai si sono organizzati si sono organizzati dobbiamo invertire dobbiamo invertire dovete andare tanti in b e soltanto io e totte in a ragazzi io sono ancora in b spiegami come stiamo facendo no al contrario noi io e te in b io e te in b scuso ho sbagliato io a dire e loro tutti in a e in a in a in a in a facciamo così voi adesso andate tutti quanti in a e noi andiamo in b no hai capito vai vai c'è ancora uno andate andate no ce ne sono due una è sopra no glados vai tidoci ma eh allora oh facciamo così andate voi in b e noi andiamo in a io e in b cioè al contrario cazzo e cosa mi compro? eeeh non è un po' di no adesso io vimbi in b dai eeeh andate in b di nuovo dai andiamo in a di nuovo uno in più deve venire in a no 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 vabbè dai vittorio con noi vai stanno bene ho visato di fatto sempre bene e la vp ro mi è mancato ho chiamato giaro e ho detto fatemi sapere e non ci sono flashato dove cazzo è? non c'è nessuno libero mi sono scappato sta a vedere sta a vedere il suo giro è un giro e secondo me sono andati merda arriva dal centro bella l'ho fatto con il centro occio occio e ce n'è uno in b se non mi sbaglio se l'ho visto male no dove? andiamo qua sottina dai andiamo qua sottina dai qualcuno col kit ragazzi qualcuno col kit arriva arriva copritemi 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 non credo che ce la faccio eh di orario ce n'è ancora due ce n'è uno in scale no non è possibile lassù 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 e che cazzo uno sopra uno vicino alla bomba c'è uno vicino alla bomba andate su su di sopra qui ci stanno facendo il culo da quanto dobbiamo di là perchè siamo di là caduti nell'obbligo a quanti round dovevano arrivare non mi sto scordato a 16 per vincere sanno 30 round mi vado di muivina dai stavolta la di no easy stop blue shotgun va buiamo un po quello che vogliamo ehh perchè 4 in a perchè 4 in a noi vogliamo quel cazzo che vogliamo e non c'è va bene no c'è buttata la gas vado in b ma ora decidiamo che non dite che è meglio la rafficata il corpo automatico auto ottenere eccola sui miei 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 i miei miei quando stiamo andando ma non ammazzate in vita della porta alla porta in b la porta era da punto in chiamine fatto per adotto della porta in via tutto dal tunnel bravo torta ci fanno il culo a questo giro per così dal tunnel però non è una buona idea dalla porta c'è una porta no non basta no non possiamo far sta figura qua cavolo stava riprendendo di brutto ma niente perdonateci ehm eh se li facciamo ragazzi ti pare il ping per fortuna mi pare che siamo un abbi giusto quando si registra no non possiamo non mi sembra giusto non possiamo permetterci adesso mi ha fatto arrabbiare dove li metti plantan in b metti il navo di lungo con il fiscale sei lì che cambia nooo mi hai diflasciato a me ragazzi ne sono in A ma dimmi quando flashi flashi io sono in A caraccio sei a capire e tu un bello spawn ma la bomba non è droppata sono in B sono in B dal tunnel tu muori stronzo bomba droppata da qualche parte non so dove mi chiamano sto bastardo guarda la WP guarda dal drop ragazzi vale vai grande chi è che ha fatto l'ultima kill grande grande A di rauger ma cavolo ti chiami un grande saluto a tutti quanti non sei a capire non sei a capire non ho capito il mano pure io vai buono e poi ho comprato tutte le granate possibili immaginabili e ho la WP di fuori no no io vado solo col mio mandarino io ho fregato la WP di fuori eh non andai io al mandarino mi rimetto lì vado in A vado in A vado in A vado in B vado in A io sto in A con il mio bello WP non andate in short non serve un cazzo tanto la bomba non vado in short lancia da su di tu eccolo no la bomba dove ma mi ammazzato vai dietro la porta è dietro la porta te lo dico io se arrivi no eh li fermo sta cacando abbastardina sono anche non sono riuscito a prendere lì erano in due eccolo un andato bello non l'ho vista cazzo era bellissima saltando senza mirare niente non l'ho vista stavo cambiando la visuale non l'ho visto no ecco là su 8 che c'è abbassati abbassati se no ti trema la mano ce la potete fare ma la bomba non l'hanno presa la bomba l'hanno presa incredibile no di nuovo l'hanno persa vabbè vabbè vince si perde conti questi chi ma noi non possiamo perdere fatti fessome 5 a 9 vado in nome in b dai vado bew vado in b vado in b vado in b i bagbettin vado in vado in b dai con il tuo mandaino sembranzo campere sto cazzo ditemi quando flashate iname sembra pulita almeno che non siamo lasciati da short la bomba è short attenzione bomba è short è droppata c'è uno dalla porta c'è un altro nel tunnel sotto dalla porta vai totten stai camperando alla bomba oh andate dalla bomba ragazzi oh dai siamo in vantaggio eravamo no 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 andate 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 eh c'è solo questo sono ah non c'è più nessuno eh anche sto giro vaffanculo recuperiamo recuperiamo no scambio delle squadre adesso ok bene bene adesso andiamo questa è la cosa bella di counter strike puoi sempre recuperare quello è bello dai andiamo no non posso comprare niente a giro della delle pistole della pistola deserti golfine ciao buona a meno quando dobbiamo preoccuparci del kit di disarmo ecco eh eh tutti i b dice dai tutti i b chi è che c'è la bomba ehm quello lì di inglese americano eh che ah che culo proprio porca eva che largata che ha tirato no no a me va bene io mio qui 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 faccio due 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 ah finchè la bomba troppo porco due no mi ha ammazzato mi ha ammazzato scendete giù scendete giù stanno salendo da giù stanno salendo da giù no ma no si chiudere si fa chiudere si fa chiudere in dia 1 ne abbiamo ammazzato o non l'ho ammazzato io tipo la metà della una metà della squadra va da un lato e gli altri vanno dal lato volete io faccio da distrazione da esca e vado in A pure da esca di tutto del tempo dai andiamo in B di nuovo andati in B andiamo in B andiamo in B tutti andiamo in B tutti vittorio fai un po' no fai fai da vediamo un pochino come va vittorio no e mi dispiace mai cominciate se c'è troppa gente se c'è troppa gente giriamo per mid io lo faccio da sentinella io li aggiro dalla scala vai vabbè ci chiamo tutti in un altro punto questo qua vabbè porche la scusa non ti senti ah con questa no che non ti senti ah Dio mio dietro dietro ragazzi dove ma dove sono non dici dire dittolo no ma l'ho ammazzato ma non ho capito dove il cattolo ma l'ho ammazzato ho l'ho ucciso l'ho ucciso ok totten bravissimo vai totten vai totten vai dammi l'arma dai tutti in B dai questa ce la facciamo questa ce la facciamo tutti in B via 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 nooo c'era uno già c'è preso il mio mandarino questo qua faccio che c'è anche uno che ce ne sono due in B dov'è si è preso il mandarino e spara con la pistola ok totten una B si sto eh dai 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 grande 동erone grande 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 vedi mandarino si gli ha il medallo oh la bomba ovviamente il metto e il giubbotto antiproiettili se li immagino secondo me camminai camminà camminà cosa vuoi andare a vista il tagli e dice mi che che culo se non capite in un clan e poi tutti in abito 8 stanno andando in acquisti eh cartero cartero un camper no 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 era un camion per il mio campo capito guarda questo che bar lampa tomas la difesa qua adesso la difesa più totale siamo ancora tutti vivi ci dà c'è la giù ragazzi di qua venga a prendere e ce n'è due ce n'è due ce n'è due 8 8 dopo che ha capito c'è chi ha capito c'è chi ha capito la bomba l'avanzato quanto li hai pagati se ha capito no mi ha ammazzato sta arrivando da sotto merda merda no proprio ho danneggiato molto però dai che magari non ce la fanno a disarmare che non hanno un kit se non hanno un kit non ce la fanno no 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 che navi ce l'ho io la bomba chi la vuole inter la droppata oh devi sul titolo del video ti scrive ho droppato la bomba prendiamo voi andate in via io vado in a che fa questo io vado in a oh che fa questo vado in a oh che fa questo voi andate in via io vado in a per riuscire con la bomba sta andando ma è scemo vabbè la giusta io giro per me giro per me per me per questo è andato non andiamo in via merda bastarda anche me ha fatto fuori cricetti qua stanno arrivando tutti gli abiti tutti i b sono tutti i b sono tutti i b sono tutti i b cricetti qua cricetti qua cricetti qua cricetti qua ancora è ancora fattibile oh oh ce ce l'ho dietro totten planta planta totten io parlo con questo cuore che manco se lo conosco minchia ho 2 hp ragazzi 2 hp eh l'ho visto eh dai inquadiamo totten cazzo vittorio ok lo vado all'interno se totten mi sa che ti riesce solo a imboscare inutile che sta a difendere ecco vabbè vabbè vai vitto grande vitto arrivano anche da sotto quando cale vuole esplodere sta bomba grande vitto grande vitto grande vitto grazie quanti soldi ha fatto ragazzi voi andate in B io vado in A di scolarli ok si andate tutti in B io vado in A andiamo in B se c'è troppa gente giriamo per mid e li raggiriamo che mi tiro la flash appena tiro la flash lì ok ragazzi andate ma non ha funzionato la flash minchia mi ha flashato a me ma non è esploso la flash mi ha flashato a me oddio oddio angelo non sparare i compagni eh lo so mi è scappato che c'era il fumo vai bravo glados non sprecare per i copi ricarica prima vai 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 dov'è vai glados piazza piazza veloce vado vede aspetta ok ho c'ho tunnel cazzo cazzo tunnel tunnel eh sono tutti morti guarda quanti bei teschi che abbiamo non la tro no no che ci sta a crit ma che ce la fa si questo qua ce la fa mer 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 che deficiente che sono stato vabbè ce la possiamo fare ce la possiamo fare ancora comunque ditemi quando flashate perchè non capisco però mi sei scusato è stata colpa mia ma tranquillo vado di nuovo in a? andiamo in b che non si aspetta ma che ti andiamo in b dai andiamo in b vado un attimino che fa quell'altro mamma? lituania verso l'italia complimenti a lui lituania contro l'italia e lituania ma vaffanculo va via 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 di qua di qua di qua non c'è un'altra cosa questo è nel culo l'infilo proiettili però faccio senza ricariche un p troppato per chi lo volesse potrei capire cosa è successo io sono in b sarai anch'io sono in b in b è infolito completamente venite in b venite in b cazzo che è la bomba siete in due vai vai glados vai glados la bomba è droppata ragazzi c'è la cappa a questo bastardo chi è che c'è la bomba droppata? no è droppata lì al centro faccio perchè sta incaperando la bomba se ce la fate se state uniti ce la fate ragazzi si traicco aspettami che cazzo mi sa che si parano con un danato con un altro state uniti state uniti dietro 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 franzo scusano pollo ma l'ha ammazzata anche a me vaffanma donna perchè sta andando così da schifo abbiamo perso abbiamo perso non abbiamo perso oh si vince si perde non abbiamo perso ancora mi sono ancora fiducioso andiamo in aria io voglio la bomba aspetta andate tutti andiamo in aria oh io compro il kit di disarmo mi fanno incazzare quelli che dicono sono andati lì sono andati là oh io compro il kit di disarmo ragazzi chi è che ha fagato dai che libero è morito non posso passare porca eva sono entrato sparando a caso oddio no no non ci voglio credere no pito ma hai ammazzato ce la facciamo questa dai no ma hanno ammazzato in bimbi lì c'è uno, uno solo c'è in b c'è uno solo in bimbi dai foccia foccia crucia al cimbi e c'ha pure poca vita mi sa che era tipo un mitra di quelli precisi sai stava abbassato sembra che stesse facendo qualche bisogno chi è che ha la bomba? dai vai metti sta bomba grande oh c'è questo qui sta questo sa quello che sta facendo grande 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 edi si spari i pedoni vai bravo faccio la bomba dai dai ce la possiamo fare andiamo in b andiamo in a andiamo in a sempre in b stiamo andando e noi abbiamo già plantati in a andiamo in b dai tutti col coltello si vinciono si vinciono Dove, da sotto? Sì, siamo per mid Ma vaffanculo, questo è con noi Ne prese uno Oddio, odio, odio, odio C'era uno bastardo pronto lì con la Desert Eagle Che puntava all'altezza della testa Dietro, 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 dietro il portone Dietro il portone di B C'è pieno, stanno tutti in B, tutti in B stanno andando Kriczewski qua c'era Grande, grande, totta e grande Merda, bastardi Bastardi Sono a 15 Siamo solo a pareggiare To, vedo la bomba La bomba a voi Ragazzi, io vado di nè, voi andate in bio No, ho droppato anche la pistola, me lo sono cretino Voi andate in bio, io vado di nè Ma ti pare, Vittorio, che è la prima registrazione che facciamo di niente Facciamo così, si può giocare Andiamo di là, di qua, di là tutti i nassi Forse l'unico bravo è quello là Quello che non si è stato, ostia Guarda che non si è stato, ostia Io una volta ero bravo a sto gioco No, via, via Via, no, lo abbiamo già fatto Via, via, via Bastardo, 20 HP Ma l'ha ammazzato, stanno entrando, stanno entrando Kriczewski No, ma non è possibile Ah, via, abbiamo perso Non ce la facciamo più Ma non l'hanno plantato, vero? Guarda che sia noi che dobbiamo plantare Cioè, non l'abbiamo plantato, vero? Ma la bomba è in mano Può planta, ma questo è scemo Abbastanza Vuoi plantare, Eddie? Vuoi fare più o meno fuori tutti? Puoi plantare Madre, sei un correttino deficiente, però Però plantare è sempre una garanzia Cambio squadre? No, Glado Uh, bello quello lì Grande Glado Vi vincita? No Dai, aggistiamolo F9? Ma che? Dai, io vado Andiamo indietro Dai, io esco Che poi, al limite, facciamo Esco Che facciamo i saluti Allora, bene ragazzi Come avete visto Ci è andata male Bene Per farvi vedere Che non registriamo solo le vittorie Che comunque non abbiamo neanche ancora registrate E Ci è andata male Però ci siamo divertiti E volevamo condividere questo divertimento Anche con voi E Facciamo un saluto a tutti quanti Andate voi in ordine Non lo so Dai Totten Glados E Vitto E poi salutiamo tutti quanti Dai Ciao raga Ciao a tutti A Totten E Vitto Non saluta Eh, io No, no Me ne va Ah, se n'è andato Va bene ragazzi Dai Da Mr. Tyke Da Totten98 Da Glados E da Vitto il mito E tutto quanto ragazzi E con questo velo pietoso Vi lasciamo E ciao a tutti A voi in studio